Amici sportivi, benvenuti a Sport Puglia. Ci troviamo nella sala stampa dello stadio Via del Mare con Arturo Calabresi qui alla mia destra e Giolli difensivo del Lecce ma lui è anche un centrocampista se vogliamo. Alla mia sinistra c'è Flavio De Marco, direttore editoriale del Corriere Salentino. Benvenuti ad entrambi. Allora Arturo, ho detto bene Giolli difensivo, ti adatti a giocare dappertutto? Beh sì, diciamo che cerco di rendermi utile dove lo richiede il mister e dove c'è bisogno e sono contento del fatto che possa dare il mio contributo in più posizioni, sicuramente mi fa molto piacere. Allora Calabresi ha 26 anni tra pochi giorni, cresciuto nelle giovanili della Roma, è nato a Roma, poi Livorno, Brescia, Spezia, Foggia, Bologna in Serie A per due volte, poi anche in Francia nell'Amiens, poi nel Cagliari e nel Lecce dove sta raccogliendo addirittura gli elogi, ha raccolto gli elogi sperticati del suo allenatore che ha detto proprio l'altro giorno e il giocatore che ha lo spirito che io voglio da tutti gli altri. È stato bello, no? Sì, no, sono delle cose che mi riempiono di orgoglio, mi fanno molto piacere e sono contento che io riesca a dare il mio contributo anche come un elemento positivo da un punto di vista dello spirito che cerco di portare e sono contento che questo venga riconosciuto dall'allenatore, sicuramente mi fa molto piacere e come ho già detto in conferenza l'altro giorno lo ringrazio per questo. Senti Arturo, ma la tempra, questa voglia di applicarsi e di fare anche da esempio per i compagni, si ha dalla nascita o si può acquisire? Cioè la famosa cazzimma napoletana si ha nell'anima o si può imparare? Ma ho sentito tanti luoghi comuni riguardo a questa cosa nell'arco della mia vita, nella mia carriera, ho sentito tante interviste, tante cose, io non lo so, sinceramente, ho sentito gente che diceva che chi viene dalla strada ha più fame di chi magari cresce in una famiglia magari diversa, io credo che sia una cosa che sia dentro, però non mi piace parlarne su me stesso, ecco, come ho già ripetuto più volte, sono contento che questo, ecco, in qualche modo passi questo messaggio, però io sono anche cresciuto con degli esempi che mi hanno portato a rubare con gli occhi qualcosa, come ho sempre detto anche quello di Daniele De Rossi che ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio quando ero molto giovane alla Roma, quando ero in primavera e sono sempre stato colpito dal suo modo di fare, dal suo modo di rapportarsi, di comportarsi con i compagni di squadra e con tutti, quindi sicuramente gli esempi nel corso della vita che hai e che riesci a cogliere sono importanti e quanto riesci a farli tuoi e poi trasportarli, anche questo sicuramente è un elemento importante. Hai parlato di Daniele Rossi che è sicuramente un esempio clamoroso di quello che abbiamo detto prima nel comportamento sia fuori dal campo che nel campo. Flavio De Marco, direttore editoriale Corriere Salentino, parliamo un po' di questo espluà, di questo tra virgolette finora miracolo Lecce, la squadra più giovane del campionato che riesce a mettere in fila fino ad adesso tutti, primo posto, dicevo finora perché la lotta sarà serrata fino alla fine. Quali sono i motivi secondo te di questo espluà? Tanto credo che ci sia il progetto già dall'anno scorso di voler tentare il salto di categoria e sappiamo benissimo che quest'anno facendo i dovuti scongiuri rispetto allo scorso anno dovremmo avere una posizione maggiormente stabilizzata e non dovremmo avere quella caduta che l'anno scorso poi si è verificata nostro malgrado e che ci ha visto poi giocarcela nelle ultime battute. Quindi credo che il progetto venga da lontano, soprattutto grazie alla intelagliatura voluta dal direttore tecnico Pantaleo Corvino e che anche ha dimostrato, qui parliamo anche di individualità, parliamo di calabresi, anche calabresi ce lo siamo a gennaio, ce lo siamo tenuto così come strefezza, così come anche altri giocatori che Hulman stesso, che ce lo siamo tenuto grazie al cielo perché è il Lecce che ha bisogno di questi talenti, di questi giocatori così forti. Io ho visto Bruno, lo sai che il giornalista deve essere imparziale e io proprio apposta, infatti ho detto o mi metto quella della Cremonese o quella della Spal, poi ho detto va bene mi metto quella del Lecce perché è capitato oggi, però a parte le battute credo che ci sia il progetto consolidato grazie a questa idea di calcio che è stata voluta da tempo in primis dal Presidente Saverio Sticchi Damiani e poi da chi ha curato il mercato. Arturo Calabresi, parlavamo dei segreti di questo Espluade Lecce, squadra più giovane, ti cito tre possibilità interpretative, acquisti finora praticamente tutti azzeccati, giovani carneadi che stanno diventando protagonisti, secondo elemento un modulo, il 433 che consente a Lecce con i cursori laterali, la famosa alla destra e alla sinistra di una volta, che spesso danno il cambio di marcia e poi decisamente un atteggiamento fraterno da parte del vostro allenatore che vi rende tutti protagonisti, tutti titolari, non ci sono rivalità almeno apparentemente e quindi il gruppo si è cementato. Quali di questi tre elementi è più importante o sono tutti e tre alla pari? No, sicuramente sono tutti e tre alla pari ma ce ne sono tanti altri, sono tanti fattori che hanno portato sia a creare qualcosa che potesse permettere alla squadra di essere continua finora nei risultati e nel rendimento. Credo che tutte le cose che hai detto sono sicuramente molto vere, molto giuste ed è qualcosa che sta funzionando ma in questo campionato che è molto lungo e molto difficile non si fa in tempo a lodarsi che ci si sbroda e quindi bisogna tenere altissima l'attenzione, altissima la tenuta mentale perché è molto difficile giocando ogni tre giorni e giocando così tante partite ravvicinate e tenere una condizione psicofisica alta e noi stiamo facendo uno sforzo incredibile e siamo contenti del fatto che stiamo riuscendo a portare a casa dei risultati importanti e vogliamo continuare a farlo ovviamente fino alla fine. Raccontami brevissimamente cos'è successo contro l'Ascolino, la partita l'avevate veramente in mano, potevate stare sul 3-0, poi alla fine avete rischiato di pareggiarla. Cos'è successo? È successo che innanzitutto incontravamo una squadra forte, è una squadra che è settima in classifica ed essere nella zona playoff in questo campionato vi assicuro che non è scontato e se loro hanno questa classifica veramente è significativo e secondo me abbiamo fatto una partita ottima fino al gol subito, poi c'è crollata un pochino anche in campo le certezze che avevamo costruito, abbiamo avuto 2-3 palloni per poter fare il 3-0 e chiudere la partita e di colpo ti ritrovi sul 2-1 con 20 minuti da giocare e alla quarta partita in 15 giorni quindi diventa tutto molto più difficile però abbiamo saputo soffrire come abbiamo saputo farlo a Monza e poi abbiamo trovato il gol che ovviamente è stata una liberazione nel finale. Flavio adesso c'è il Perugia, il Lecce in 11 partite ne giocherà 6 fuori casa e 5 in casa, si comincia da Perugia, Perugia che al momento non sembra tra le favoritissime di questo campionato anche se ancora la classifica può dire tante cose ma ha questo grande centravanti De Luca che ha fatto già 10 gol, come la vedi questa? Sì, a parte le individualità il Perugia recrimina tutta una serie di errori arbitrali e quindi sono sugli scudi per questo e viene da due sconfitte consecutive è vero ma le prestazioni non sono tante volte conseguenti al risultato e ha un obiettivo certamente diverso da quello del Lecce che è quello comunque di agganciare la zona playoff ma lo vogliono fare e non vogliono rimanere fuori anche perché la classifica comunque è corta, non mollerà, daranno battaglie in campo certamente. E prima di aprire la finestra sul Perugia una parentesi sulla gara con l'Ascoli, io credo che anche si sia sottovalutata la prestazione dell'estremo difensore dell'Ascoli che ha fatto già anche quando è maturato il gol di coda un po' alla Bettega, anche lì è stata un'intuizione di coda nel tentare il gioco sopraffino perché il portiere ha fatto una partita e è stato molto impegnato quindi anche quando Mr. Sottil in sala stampa ha recriminato sul palo, sul fatto che comunque si erano sbloccati psicologicamente, dire però che la partita era stata dominata dal primo minuto, insomma, già, là c'è una situazione. Molti hanno storto. Ebbè, ma là c'è una situazione nel Ray Charles, quindi non puoi dire una cosa del genere perché comunque Lecce non arriva a fare quel risultato, si può dire certamente che l'Ascoli è un avversario degno, un avversario che non ha mai mollato, che ha preso in castagna il Lecce quando ha avuto un calo, questo certamente si può dire e si può dire anche che il loro portiere ha fatto un partitone, altrimenti, come diceva giustamente Calabresi prima, si poteva andare avanti, anche sulla sgroppata di Ragusa, lui, cioè Ragusa ha cercato di scartare il portiere, poi lui ha capito in maniera molto veloce, ha capito, come si dice in dialetto leccese, lo scarto e quindi è riuscito a intercettare il pallone. Col Perugia chiaramente sarà dura, però con questo Lecce credo che possiamo essere fiduciosi. Calabresi ha sorriso quando De Marco, quando Flavio ha parlato di sottile? No, no, mi è venuto a ridere perché non avevo sentito il fatto che avesse detto che è stata una gara dominata dal primo all'ultimo minuto, ovviamente poi a caldo ognuno ha le proprie idee, però insomma è stata una partita dove al 65esimo, 70esimo potevamo stare 3-4-0, quindi penso che loro abbiano fatto una grandissima partita, si hanno rientrati vementemente con le sostituzioni perché hanno dei giocatori di qualità indiscussa come Dionisi, come Ricci che sono giocatori forti e che in un momento in cui la partita si è riaperta hanno saputo prendere il sopravvento ma è stata una partita penso... Senti, questa gara di Perugia bisogna non perderla assolutamente intanto, no? Sì, come ogni gara, ogni gara vale tre punti, ogni gara è uno scontro determinante e sicuramente sappiamo che andremo ad incontrare una squadra che gioca un calcio molto aggressivo, molto fisico, molto chiaro e in un campo difficile come quello del Curi che sicuramente giocherà ha un ruolo importante ma noi siamo pronti a fare una gara di carattere per continuare insomma il percorso che stiamo facendo. Allora siamo sulla parte finale di questa trasmissione, di questa puntata di Sport Puglia, ho parlato prima della carriera di Calabresi, devo aggiungere che lui ha giocato anche in nazionale, under 21 e under 17 e ha fatto il primo gol in Serie A al Torino, al Torino col Bologna, giocava col Bologna, gol al Torino, te lo ricordi bene, no? Delle tue esperienze maturate fin qui, qual è stata quella più coinvolgente a parte Lecce che è tuttora in corso? Ma è stato un bel viaggio perché quando esci da un settore giovanile come quello della Roma inevitabilmente vai incontro a dei prestiti e devi affrontare delle difficoltà che non sono scontate superare, è difficile dire quale è stata la più importante, la più formativa sicuramente è stato il campionato in Ligan in Francia dove ho giocato sempre e ho saputo affermarmi in un ruolo come il terzino destro che ancora non sentivo del tutto mio quindi quella è stata sicuramente un'esperienza importante ma non posso dimenticare Bologna che ha una parte città stupenda, gente fantastica e ho il ricordo delle prime partite in Serie A, del mio esordio contro la Roma in Serie A, del gol come hai citato tu al Torino, tutte belle emozioni che mi porterò sicuramente sempre dentro. Allora Flavio concludiamo, ultima domanda ad entrambi, i tifosi gridavano dopo la vittoria con Lascoli all'uscita del campo, vi vogliamo sempre così, sarà possibile secondo te vedere un Lecce con questi ritmi di rendimento, con questa capacità? Sì, io credo di sì, anzi io credo che il bello deve ancora arrivare perché poi ci sono individualità che si devono ancora esprimere al massimo, contro l'Ascoli abbiamo visto che si è sbloccato Rodriguez, poi ci sono anche altri elementi che secondo me hanno tutto l'interesse, tutta la voglia di esprimersi nell'individualità da un lato e nella squadra dall'altro perché quello che è vero che ha sottolineato Mister Baroni è che questa è diventata una squadra, cioè il passaggio da gruppo a squadra è una parte concettuale che può sembrare banale ma non lo è affatto e così come è anche bello, dicevi i tifosi vogliono vedere la squadra ma anche Abcontraris è la squadra che vuole vedere il tifoso che certamente c'è e chiaramente uscendo gradualmente da questa fase pandemica e ci auguriamo di poterne uscire quanto più è possibile, la capienza probabilmente potrà addirittura aumentare quindi per i supporters giallorossi sarà una festa. Bene, chiudiamo allora, ultima domanda ad Arturo Calabresi, volevo farti un plauso personale, io seguo il Lecce come giornalista da molti anni e dà ragione Baroni quando dice che tu tu hai incarni lo spirito giusto per questa squadra e per questa città dove il tifoso sanguigno vuole vedere il giocatore sanguigno e quindi voglio dirti che ha ragione Baroni quando dice quello che ha detto. Tu hai 26 anni, hai ancora 10 anni di carriera come minimo davanti, adesso ormai si gioca fino a 40 anni, ecco però diciamo 10 anni ma forse anche di più, 10 anni sicuramente. Cosa ti prefiggi di raggiungere? Qual è il tuo sogno di questi prossimi 10 anni? Intanto ti ringrazio di cuore perché come sai, come ho già detto, queste cose mi riempiono veramente il cuore perché come ho detto anche in conferenza stampa, oltre che il risultato finale, l'esito sportivo per me è bello poter vivere la mia passione, la mia professione facendo trasparire tutto questo, quindi farlo in un posto dove questo viene colto e dove questo è condiviso con la mia passione è sicuramente bellissimo e ti ringrazio. Per quanto riguarda i sogni, le cose, credo che pensare troppo in là ti distolga un pochino da quello che vivi nel presente. Io adesso ho un sogno e credo che sia condiviso con voi e con tutte le persone che vivono questa squadra quotidianamente, quindi mi soffermo su quello e cerco di farlo mio con la testa e con tutte le energie che ho e spero di portarlo a termine quest'anno. Te lo auguriamo di cuore, un grazie a Calabresi, un saluto particolare al collega Flavio De Marco, salutaci anche papà, Paolo Calabresi, famoso attore e conduttore che ti ha fatto fare il calciatore. Ma non mi ha fatto fare niente, in realtà l'ho fatto da solo, però sicuramente come tutta la mia famiglia, mia mamma, mio papà, i miei fratelli, le persone che mi vogliono bene mi ha sempre supportato, quindi ve lo saluto volentieri. Grazie, è tutto per questa puntata di Sport Puglia, alla prossima, seguiteci per il prossimo mese, quello di aprile, dove avremo un altro protagonista, giallorosso. Grazie Flavio, ciao, in bocca al lupo. Grazie a tutti.